Io vi chiederò soltanto una cortesia, fatemi un favore uno soltanto, non guardate la mia faccia, non prendetela in considerazione. Per colpa di uno sciopero dei treni ho dovuto anticipare il mio ritorno da Roma e questo si è tradotto in due ore scarse di sonno, alle 5 ero in stazione Tiburtina, vi lascio immaginare la creme della creme che si può trovare in una stazione a Roma alle 5 di mattina e quindi sono distrutto, sono appena rientrato a casa, ho maledetto veramente tutto quello che è accaduto ieri con quel controllore accoltellato e il successivo sciopero, veramente è andata a complicare tantissimo la mia giornata, spero che il controllore possa stare bene e che i colpevoli possano pagare perché veramente stiamo parlando di inciviltà a livelli allucinanti. Detto questo, oggi siamo qui per parlare di Lille Juventus e sarà una partita molto strana, sarà una partita anche abbastanza complicata anche a vedere quella banalmente che è la classifica in Champions delle due squadre. Tiago Motta che ha detto che in realtà per lui tutte le partite sono importanti, poi passeremo anche da questo concetto perché Tiago Motta ha detto una frase meravigliosa che voglio commentare insieme a voi però andando anche ad abbassare un po' i toni dell'importanza relativa a questa partita, per me è molto importante, per me è veramente fondamentale, abbiamo rischiato di dover fare la live reaction stasera in un hotel di Roma ma dato che sono rientrato riusciremo tranquillamente a farla qui a casa, quindi ci vediamo su Twitch questa sera come al solito per commentare insieme quelle che saranno le giocate della Juventus, se spera giocate positive, in modo da poter consolidare una classifica Champions che ha subito una brusca frenata dopo la sconfitta con lo Stoccarda. La conferenza stampa non la commento come al solito, uno perché è anacronistico, dato che è stata ieri, due perché è stata una pessima conferenza stampa, non dal punto di vista delle risposte di Turame e Tiago Motta, quanto più per la traduzione, perché essendo una conferenza stampa di Champions c'erano appunto anche i traduttori e non so se è sempre stato il traduttore ufficiale o soltanto la conferenza che ho sentito io, sembrava di ascoltare una messa, un'omelia, quindi diciamo che non è stato proprio il massimo, tra l'altro ci sono stati dei giornalisti che hanno fatto delle domande in cui sono partiti dicendo a Tiago Motta, te che hai vinto il mondiale con l'Italia, Tiago Motta ha detto no, guarda io il mondiale con l'Italia non l'ho vinto, cioè robe proprio un po' così. Mi sono piaciute però tre cose in particolare, me le sono segnate proprio qui e andremo a commentarle insieme. La prima riguarda Kefran Turam, perché a un certo punto gli fanno una domanda carina, e cioè tra tuo fratello, tuo papà e Pogba, chi è che ti ha fatto i complimenti maggiori? Pogba perché lo stesso Turam ha confessato essere il suo giocatore di riferimento, ha detto anche non ci sarà un secondo Pogba, io sono Turam e dovrò crescere come Turam, una risposta molto intelligente tra l'altro del ragazzo, però la risposta che ha dato suo suo papà mi è piaciuta tanto, e cioè mio papà sicuramente no, perché quando mi chiama, anche se faccio delle partite belle magari, come aggiungo io quella che ha fatto a Udine, dove veramente Turam secondo me è stato il miglior in campo, ma di questo abbiamo già discusso, invece che farmi complimenti, la prima cosa che mi dice, la prima cosa che fa è evidenziare i miei errori, e questa è la cosa che mi fa crescere. Quanta mentalità è questa? Questa credo che sia veramente una mentalità che Turam, Turam papà, si è portato dietro da quelle Juventus e anche da quel Parma, perché comunque Turam ha fatto un'ottima carriera anche al Parma, da quella Francia, perché direi che Turam ha fatto un'ottima carriera con la Francia, al Barcellona è arrivato in età avanzata, però era comunque un gran Barcellona pure quello, quindi la carriera di Turam papà è stata una carriera di altissimo livello, club e nazionale, praticamente al 100%, e una carriera del genere non la fai, senza la mentalità, e sono contento che Efren possa aver ereditato, o comunque possa assorbire questo tipo di ragionamenti, perché sono quelli che ti mettono sempre nella condizione di migliorarti, partita dopo partita, non accontentarti, è soltanto fatto una buona prestazione, chi se ne frega, se non soltanto all'inizio ora bisogna andare avanti, questo è giustissimo. Poi c'è una bella domanda di Gianni Balzarini, va a chiedere a Tiago Motta se secondo lui è positivo o negativo il fatto che non ci sia comunque una formazione titolare ben definita, è che la Juventus si ritroverà a cambiare spesso e volentieri gli undici titolari. In realtà Tiago Motta ha dato continuità nelle prime partite di campionato, quando il mercato era ancora aperto e anche quando il mercato era stato chiuso successivamente, già la partita con la Roma era la prima partita, non mi ricordo se ancora mercato aperto o avrebbe chiuso nel giro di poche ore o già mercato chiuso, ma eravamo veramente intorno al gong finale di calciomercato, le uniche modifiche che sono state fatte sono state appunto Weha e Turam, due giocatori infortunati, tra l'altro due giocatori secondo me importanti per stasera, perché stiamo parlando di due giocatori che il Lille lo conoscono molto molto bene, Weha soprattutto, per tutto il resto invece Tiago Motta è andato a confermare assolutamente la formazione titolare, quindi dipende anche dai momenti secondo me, però Tiago Motta ha detto dipende come la guardi questa cosa qua, perché dipende dalla filosofia, per la mia filosofia non è sbagliato cambiare sempre, non serve avere una squadra titolare, perché Balzerini diceva, tu giustamente hai sempre detto che per te sono tutti titolari e lo stai dimostrando, perché tanti giocatori hanno la possibilità, l'opportunità di partire titolari, quindi questa è stata la considerazione e Tiago Motta ha dato la risposta che più di tutte è andata a riassumere la sua filosofia, io credo che sia anche dettato dal fatto che l'Avento sta giocando tantissime partite, così ravvicinate, quindi è normale arrivare a dover mettere in dubbio anche alcuni giocatori, alcuni magari titolari sì, che però non sono in un perfetto stato di forma, o dei giocatori che stanno rientrando, eccezione fatta per Cobainers che con l'Udinese ha giocato tutti i minuti e dovrebbe partire titolare pure questa sera in Champions League, ha recuperato Douglas Lewis, ovviamente immagino soltanto per la panchina, forse nemmeno quella, perché comunque abbiamo visto che non è un giocatore che in questo momento Tiago Motta considera super importante, vedremo se ci sarà la possibilità di buttarlo nella mischia. Un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo, questa volta passa davvero da una risposta di Tiago Motta, è una frase, è quella sull'importanza di questa partita, se questa partita è la più importante nel girone per spezzare questa serie di partite vinte anche dal Lille, questa buona Champions, questo buon approccio alla Champions anche del Lille, e Tiago Motta non è che ha detto sì, questa è importante, no, quella là, no, io penso quella, ha dato una risposta che più di tutte secondo me descrive la Juventus, perché ha detto testuali parole, noi come Juventus vogliamo vincere sempre. Anche per rispondere un po' ai giornalisti che continuano a fargli le domande, dove può arrivare questa Juve in campionato, dove può arrivare questa Juve in Champions, si può arrivare nelle prime otto, si può arrivare nelle prime quattro, si può vincere lo Scudetto, si può vincere la Champions, questa è la risposta di default, cioè un tesserato della Juventus, e per essere un tesserato della Juventus deve avere ambizioni, questo deve pensare e questo deve dire. Poi fa benissimo Tiago Motta mettere il focus su ogni partita, perché lui vuole costruirsi mattoncino dopo mattoncino, veramente passo dopo passo, quello che è un percorso che secondo lui può portare dei risultati. Ma l'idea è quella lì, alla Juventus bisogna vincere sempre e non si scappa da questo concetto. Oltre a Tiago Motta per questa frase ringrazio Giovanni Albanese per le grafiche, che sta continuando a postare sul suo profilo Twitter, ancora una volta marcate, griffate Sport Italia, questa dovrebbe essere la formazione titolare di questa sera, Di Gregorio in porta, cabale cambiaso sugli esterni, Calullo e Gatti in difesa, con ferma per Locatelli e Turama a centrocampo, con Menersa sulla tre quarti, Ildiz a sinistra, Consensalo a destra, Blaovic davanti. Sono stupito da Di Gregorio, mi immaginavo Perin, ne avevo parlato, la difesa credo che sia la titolare di questo momento, giustissimo così, con Savona che può essere la prima rotazione, il primo cambio, la prima sostituzione in caso di defezioni di uno di questi quattro giocatori, Savona che per me ha palesemente scavolcato Danilo nelle gerarchie, ancora escluso McKennie, questo fa capire che Tiago Motta vede Cobb Meners e McKennie nella stessa posizione, quindi quella di incursore, poi con caratteristiche diverse, Cobb Meners in maniera più tecnica, McKennie più fisica magari da questo punto di vista, però è praticamente quella stessa casellina, Turama e Nucatelli invece a formare una diga, e vi dico la verità, non mi dispiace come composizione del centrocampo a due, Turama e Locatelli che è un centrocampo a due e mezzo perché Cobb Meners viene a dare una mano, Hildiz sulla sinistra, se Cabal gli darà la spinta, la copertura insieme a lui, allora Hildiz potrà fare un'ottima partita, ma penso che questo possa avvenire e accadere, con Seissau a destra preferito a OEA, ma con Seissau è il giocatore in più forse della Juventus oggi in fase offensiva, ancora una volta confermato Blaovic, non ci saranno sorpresi esperimenti davanti, posso dire la verità, questa forse oggi è la formazione migliore possibile da schierare per la Juventus, sì, possiamo stare qui a discutere, può giocare McKennie, può giocare UEA, può giocare Savona, sono dei ballottaggi, può giocare Perin, sono ballottaggi, però probabilmente questa sulla carta è assolutamente la formazione migliore, sono curioso di sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Ringrazio ancora una volta Giovanni Albanese, mi sta semplificando un sacco la vita con queste grafiche, che proietto a schermo, se stai guardando questo video, Giova, ti ringrazio infinitamente, però sono curioso di sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti su tutte le tematiche che abbiamo affrontato all'interno di questo video, io spero di non aver detto troppe cazzate, già le dico di solito, figuratevi quando non dormo e ora ho bisogno invece assolutamente di riposare. Apprezzate lo sforzo, volevo fare un po' di chiacchiere insieme a voi per portarvi in pausa pranzo, un nuovo contenuto di preparazione a quella che sarà un Lille-Juventus tosto, non ve lo nascondo, sarà un Lille-Juventus tosto perché la Juve ha passato un periodo di difficoltà che non è e non può essersi concluso soltanto con una vittoria a Udine contro Udinese, bisogna dare continuità anche in vista del derby che va a chiudere questo filotto pre-pausa nazionale. Bisogna cercare di mettere in cascina quanti più punti possibili perché poi abbiamo tanti altri impegni e dopo questa pausa nazionale non ci si ferma più e quindi bisogna fare veramente un bel respiro prima dell'immersione. Aspetto le vostre opinioni nei commenti, io vado a letto, ciao ragazzi.